Ma come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Non è possibile, no, 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 non è possibile, altro video sfogo, non lo volevo fare, non lo volevo fare, questo video non lo volevo fare, porca miseria, non lo volevo fare, è un'altra brutta notizia, e prima mi ha detto che aveva rinunciato e poi ha accettato, è ufficiale, a presto, è ufficiale. Ufficiale, Stefano Sciarawi andrà in Cina, è ufficiale, domenica le visite mediche e la firma, andrà con lo Shanghai Stewa, come cazzo si chiama? Shenwa, come si chiama la squadra? Shenwa Shanghai, vabbè con lo Shanghai, non è possibile, un altro video sfogo, io non ho parole, non ce la faccio più. Prima di parlare della notizia, del video, eccetera eccetera, vi invito a lasciare, ciao ragazzi innanzitutto, vi invito a lasciare un bel mi piace, almeno fatelo per me, un bel commento scrivendomi che ne pensate di questa trattativa, di questa ormai trattativa chiusa, perché domenica ho letto la notizia, domenica sono state le visite della firma, quindi ormai è tutto ufficiale, andrà a prendere questa barca di soldi, quindi commentate dicendomi la vostra, che ne pensate, condividete il video dappertutto, ripeto dappertutto, e venite a me a seguire i social che vi lascerò tutti quanti i link in descrizione, e anche passate nel profilo Andrea Cappelletti e nel profilo, nella pagina, nella page di Instagram che abbiamo appena aperto, vi lascerò sempre il link in descrizione, siamo un gruppo di amici che parliamo a 360 gradi di calcio, quindi veniteci a seguire. Non è possibile, iniziamo subito col video, buona visione, va. Eccoci qua, la notizia ormai è ufficiale, notizia di calcio mercato, Stefano Esciarawi lascerà la S Roma per approdare appunto allo Shanghai Steua, non so come si pronuncia, ormai è stato annunciato anche da Sky Sport e tutte le gazzette, raggiunta una cifra di 18 milioni, quindi è stato venduto a 18 milioni compressivi di bonus, quindi andranno, la Roma non mi ricordo quanto l'ha pagato, comunque c'è un po' di plus valenza, la Roma ha pagato mi pare 13 se non mi sbaglio, quindi pure un po' di plus valenza, però non mi interessa la plus valenza, non è possibile, ormai non esistono più le bandiere, non esistono più, non esistono più, se ne vogliono andare via tutti, colpa anche della società perché vogliono far fuori tutti i romani, io lo sapevo, lo sapevo, ve l'avevo detto, ve l'avevo detto dopo l'addio di De Rossi, tanti giocatori se ne andranno, non lotteranno più per la causa giallorossa, ma tanti giocatori, perché De Rossi era il simbolo, il cardine della squadra e gira tutto intorno a De Rossi, perché se De Rossi non veniva mandato via, tanti giocatori sarebbero rimasti, e sta cosa mi fa salir nervoso, ancora una volta mi incavolo con la società, in primis, sempre con la società, sì, mi incavolo sempre con la società, è colpevole sempre la società, e anche Sharawi perché è un mercenario, ha dimostrato di non tenere un minimo di rispetto alla Roma che ci ha puntato fortemente su De Rossi, è vero, alzo le mani, te danno una barca di sordi, c'hai ragione, c'è, ti hai ragione, 16 milioni, ok, alzo le mani, però te rovini la carriera, c'hai 26 anni, ma come cazzo si fa? Come cazzo si fa? Io avrei rifiutato perché sono tifoso della Roma, sì, 16 milioni, avrei rifiutato, sì, avrei rifiutato, sì, perché comunque la Roma gli aveva promosso il rinnovo di contratto, troppo tardi secondo me, si doveva muovere molto prima per fare il rinnovo, tutta la fine, tutta la fine, cioè, e poi comunque si poteva anche alzare un po' di più, l'ingaggio almeno a 4 milioni, lui voleva 4 milioni, gli potevi darsi 4 milioni, io ripeto, andate su internet a vedere il bilancio, dovete andare a vedere praticamente, il monte ingaggi della Roma, vi mettete paura, vi mettete le mani nei capelli, se vedete il monte ingaggi che ha la Roma, vi ricordo, One Jesus, 2.2 milioni l'anno, 2 milioni e 200 mila euro l'anno, One Jesus, con tutto l'amore per One Jesus, però non è possibile, spinazzola dalla Juve, 1.700.000 è venuto a noi, 3 bombe, 3, 3, ma come cazzo si fa? 3 milioni non ne puoi da 4 e sciaravi, cioè io dico, boh, e c'ha ragione, me ne vado in Cina, prendo i 16 milioni, tanta la Roma, cioè se ne è andato via dei rossi, da lì proprio è crollato tutto, comunque ormai è ufficiale, 18 milioni andranno in tasca alla Roma, complessivi di bonus, quest'anno aveva fatto 33 pesenze, 11 gol, sciaravi, miglior stagione di sciaravi, miglior marcatore di quest'anno, guadagnerà circa 40 bombe, 40 milioni di euro in 3 anni, in 3 anni, 40 milioni, ok, però ti sei rovinato la carriera, cioè la nazionale non la vedi più, eppure è giovane, dici che va a finire la carriera, no, è giovane, 26 anni, cavolo, e niente raga, è un altro video sfogo, sì, non lo volevo fa perché sembra monotono, ma ragazzi, ma se io sono arrabbiato, li devo fa i video sfogo, mi devo sfogare in qualche modo, cavolo, 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 per non dire altre parolacce, raga, il video è giunto al termine, se vi è piaciuto, a me non mi è piaciuto, non mi sono divertito a farlo, però era giusto che io mi sfogassi, era giusto che mi metto davanti a videocamera e sfogamme, e fatemi sapere, sfogatevi anche voi se siete tifosi della Roma, sotto nei commenti, leggo tutti i commenti, quindi mi raccomando ditemi la vostra, anche se non siete tifosi, che ne pensate, in primis dei Sharawi che se ne va in Cina, ma anche in generale dei giocatori che se ne vanno per il dio denaro, per il dio denaro ancora una volta comanda, ancora comanda, non esistono più le bandiere, non esistono più, detto questo, mi piace, un commento, una bella condivisione, iscrivete se siete nuovi al canale, vi ringrazio ancora, che siamo quasi a 1000 iscritti, a presto ragazzi, deve uscire lo speciale, 900 iscritti lo voglio fa uscire, e preparatevi per lo speciale 1000 iscritti, sarà uno speciale da mettersi le mani nei capelli, perché Jabioz i speciali li fa fatti bene, quindi condividete il video, venite a seguire i social, è tutto in descrizione, se vi avete perso gli ultimi video, vi lascio qua sopra nelle schede, date a vedere gli ultimi video, sono importanti, e entro ragazzi, è qui è tutto, e noi come al solito, ci vediamo in un prossimo video, bella ragazzi, sempre e comunque, forza Roma, ma noi giocatori, giocatori, non, la maglia, questa, sempre forza questa, sempre forza giallorossi, forza Roma sempre, dai, 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 prenderemo qualcuno più forte forse, chi lo sa, vamos, sei un traditore, sei un mercenario e sciarawi, bella, vamos.